Ancora tanti contagi e tante vittime, ma la notizia confortante è che per il secondo giorno consecutivo continuano a diminuire i pazienti ricoverati. È quanto emerge dall'ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla regione relativo alla diffusione del coronavirus in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 1.602 casi sulla base di 8.753 tamponi effettuati, con una percentuale di positivi, che è pari a circa il 18%. 721 contagi si riferiscono alla provincia di Bari, ancora la più colpita, seguita da quella di Foggia, 250, e dalla BAT, dove oggi se ne segnalano altri 177. 163 se ne contano invece nel territorio di Taranto, 147 e 135, rispettivamente per Brindisi e Lecce. 14 positività riguardano infine residenti fuori regione, mentre altri 5, di residenza non nota, sono state riclassificate e riattribuite. Con i casi odierni salgono così a 59.249 i contagi pugliesi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Da aggiornare purtroppo in peggio neanche il bilancio dei decessi, con altri 42 morti in un solo giorno. 24 nella provincia di Bari, 6 nel Foggiano, 4 nella BAT e poi 3 nell'Eccese e 2 rispettivamente a Taranto e Brindisi. Il conteggio delle vittime della pandemia sale così a quota 1.588. Ma se gli attuali positivi aumentano, alla luce dei casi rilevati oggi, e toccano quota 41.749, occorre rilevare che da circa 48 ore è in leggera diminuzione il dato relativo ai ricoverati, che sono in totale 1.847, 42 meno di ieri. Di questi sono 226 pazienti in terapia intensiva. Buone notizie infine anche sul fronte dei negativizzati, che ad oggi sono complessivamente 15.912, con ben 571 guariti in più rispetto ad un giorno fa.